Ed Ethereum va a rosicchiare altri pezzettini al re ragazzi e dopo una sola settimana dal video dove vi parlavo dei target di ETH che poteva raggiungere tranquillamente contro Bitcoin e della nuova ritrovata fase dopo il mio video ragazzi dove vi parlavo che era non corretto ignorare questo che quello che stava capitando su ETH andiamo esattamente a target perfetto con quello che era il livello che vi avevo indicato in quel video ma adesso la scalata di Ethereum contro Bitcoin potrà ancora continuare oggi facciamo un upgrade di quel video ragazzi perché quello che è avvenuto in questa settimana è stato anche estremamente veloce non mi aspettavo la velocità con la quale ETH potesse andare a quel livello di target pensavo ci volesse un mesetto circa invece addirittura una settimana come sempre le criptovalute ci abituano a questo super diciamo super velocità super pump quindi andiamo a vedere una serie di informazioni relative ad ETH vi mostro la successiva resistenza contro Bitcoin e poi facciamo un ragionamento sguicciare su ETH sempre di più per i prossimi mesi potrebbe essere una strategia portare i nostri Bitcoin su ETH per i prossimi mesi che cosa indicano i grafici come sempre andiamo a ragionare non da un punto di vista di opinione ma da un punto di vista di dati ragazzi e i dati ci mostreranno una cosa sorprendente ma prima di andare avanti ragazzi vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto lasciatemi come sempre i mi piace i pollicioni ragazzi ok i pollicioni mi piace perché ovviamente mi date una mano ragazzi benissimo allora io intanto vi faccio anche vedere questo che è la situazione di ETH contro diciamo in market cap ragazzi allora andate a guardare qui quella che è la dominance 18 contro il 15 3 punti di dominance rosicchiati a Bitcoin esattamente in una settimana un po' ce lo aspettavamo sì questo ovviamente ragazzi però guardate che scalata che ha fatto ETH anche oggi nelle ultime 24 ore si spara un più 10 contro dollaro ed è si è avvicinato alla soglia dei 4.000 dollari sapete che il target che avevo indicato era 4.2 ci siamo quasi appunto è relativo ai dollari e 0.7 relativo a Bitcoin ragazzi vi sono dimenticato però un'altra cosa un'altra cosa giusto che vi dovevo dire ragazzi allora intanto la lancio della piattaforma trading on relativa ai corsi e a tutti i servizi e l'academy l'academy ancora non è live ma tornerà live tornerà live vi faccio questa premessa tra pochissimo però ragazzi è andata stra bene quindi sono felicissimo sono rimasti solo pochissimi bonus per i 50 euro di sconto ragazzi quindi chi di voi volesse vi lascio come sempre il link in descrizione perché come sapete bene questa promo dei 50 non la rivedrei più per buone settimane come l'ultima volta l'abbiamo fatta a dicembre ragazzi quindi ci vorrà come sempre un bel po' quindi andate sul link in descrizione vi prendete da questo da questo link ragazzi il vostro coupon se siete interessati alla formazione ad approfondire il trading tra le altre cose sto anche implementando una serie di servizi stranuovi di cui uno è proprio un trading system su ETH ragazzi adesso vi do questa bomba questa news perché confluirà in academy entro la prossima settimana massimo inizio dell'altra avremo un trading system solo per gestire gli ETH ragazzi quindi in valuta ETH fantastico e poi sto realizzando anche una serie di nuovi moduli all'interno del corso che saranno ovviamente compresi allora tornando scusate ragazzi questi spot oli ogni tanto ci sta ma soprattutto perché aiutano anche le persone a capire che cosa si può fare in questo mercato allora ritorniamo a noi allora per quanto riguarda la market dominance 45 bitcoin 18 quasi 19 a dire la verità ETH ragazzi allora tutto questo era previsto sì l'abbiamo parlato la scorsa settimana anzi vi faccio anche vedere tutta una serie di video ragazzi dove parlo di ETH questi video io li ho realizzati tutti nell'ultimo mese Ethereum è il nuovo re nuovo ETH quando ho parlato qui questo era il primo ragazzi moltissimi hanno storto il naso hanno incominciato a dire insomma è bitcoin in realtà da qui in poi in questa scalata di video che ho fatto su ETH ha raddoppiato in pratica contro bitcoin ragazzi ha fatto più 100 allora il grafico che oggi analizziamo è questo questo è un grafico importantissimo perché ci farà vedere il target futuro contro BTC di ETH ma poi a parte questo ci farà anche vedere la struttura ciclica di bitcoin contro ETH perché anche gli equilibri fra un altcoin quindi Ethereum e bitcoin possono avere queste strutture cicliche sono meno precisi ovviamente dobbiamo ragionare su quello che stiamo facendo quindi lì prenderemo in considerazione ragazzi ma non state al dettaglio perché poi queste sono ovviamente estrapolazioni quindi andiamo ad applicare un'analisi che non nasce per questo scopo su una coppia in questo caso che secondo me può avere una sua struttura ciclica però è troppo giovane per parlarne così perché dal 2015 abbiamo i dati quindi sono solo sei in anni e sono troppo pochi per questo tipo di analisi però delle idee ce le possiamo fare ragazzi e soprattutto delle idee che saranno dirompenti perché se così va come viene indicato in questo grafico abbiamo la possibilità di avere addirittura il raddoppio dall'attuale livello di prezzo di TH contro BTC questa cosa anche da un punto di vista fondamentale potrebbe essere secondo me sì ma ne parliamo più tardi allora intanto analizziamo il grafico per quello che riguarda la struttura di TH allora prima cosa che voglio farvi vedere è il raggiungimento del livello di target che era 0.07 medio che vi avevo detto nel video di domenica scorsa chi non avesse ancora visto ragazzi il mio video può andare diciamo sul link che vi lascio sulla mia testa come sempre andatevelo a guardare quello del target di TH è un video splendido insomma quindi ci sono affezionato ragazzi mi è piaciuto tutto l'ho visto io anche più volte vabbè allora a parte queste cose per quanto riguarda invece il livello di target è stato raggiunto allora questo è un buon livello di target ovviamente lo 0.055 rotto in settimana ha innescato una spirale di acquisti incredibili e ha dato questo pump contro Bitcoin ragazzi che è stato solo in una settimana del 26% ok tra l'altro settimana in cui Bitcoin non è stato forte ma neanche debole comunque ha recuperato ma anche dai suoi livelli di minimo ora quali sono i successivi target successivo target immediato è questo ragazzi questo è il target che possiamo tenere in questo momento a mente 0.085 però è qui c'è un però da fare questa target ragazzi è il target della parte alta della barra in cui io credo ma non è detto che sia così che Ethereum potrà diciamo potrà stare in questa barra che mi sono perso nel discorso per un po' di tempo cioè oscillare all'interno di questa struttura ovviamente non è che oscilla sopra e sotto come vi ho disegnato io adesso in perfezione non è che siamo giotto ragazzi oscillare significa fare rumore un po' come ha fatto qui quindi potrebbe fare così poi potrebbe fare così poi così poi così ok questo è oscillare per i mercati va bene non un elettrocardiogramma perfetto va bene però l'idea è che Ethereum potrebbe oscillare contro Bitcoin all'interno di questa fascia di prezzo se già ha raggiunto un livello di market cap sufficiente per questa fase vi avevo già detto nel video di domenica scorsa che secondo me Ethereum è stato estremamente sottovalutato lo scorso anno e sta recuperando quello che dovrebbe recuperare poi da qui il live break di 0.085 innescherebbe il concetto di FOMO su ETH quindi la questione non sarebbe più naturale in maniera eccessiva ma assumerebbe un'intensità forse sproporzionata anche all'attuale momento fermo restando ragazzi che questo ci dice analisi tecnica mentre se noi andiamo ad analizzare la ciclica la ciclica ci dice che la possibilità che Ethereum vada a rompere i massimi storici contro Bitcoin c'è e c'è tutta ragazzi e la vediamo adesso allora questo perché perché nel momento in cui si vanno ad analizzare dei cicli il precedente ciclo di 4 anni contro Bitcoin e TH Bitcoin che è 2015-2019 settembre 2019 ha avuto una struttura ciclica di natura rialzista anche se non si è brava però allora minimo, minimo vedete, è la struttura ciclica e rialzista anche la struttura del massimo è stata fatta in questo modo, questo è un ciclo più o meno ternario con questa forma ciclica, qui siamo su timeframe settimanale quindi analizziamo cicli lunghissimi ragazzi, non sono utili per operare, sono utili per capire la situazione in generale poi le operazioni dovete farle con l'analisi tecnica, non si fanno con cicli di 4 anni le operazioni però per chi magari è holding su TH e dice devo switchare adesso a Bitcoin e beh non è quello che ci dice l'analisi ciclica poi ovviamente come vedete questa fase è durata un anno ragazzi quindi un anno di ribasso quindi ovviamente utilizzando analisi tecnica da qui si poteva tranquillamente prendere magari uno switch su BTC e proteggersi perché qui c'è stata un'inversione di trend palesemente diciamo evidente per cui io utilizzo questo tipo di analisi a mo' di idea strutturale di dove mi trovo come una specie di atlante ragazzi, un mappamondo gigante che mi fa vedere dove sono dove sto andando, un po' dove sto navigando ok? però non è utile da un punto di vista operativo di lungo periodo è meglio spostare tutto su timeframe più piccoli e analisi tecnica da un punto di vista operativo quindi bisogna mashupare, miscelare le due le due diciamo tecniche a proposito di mashup ragazzi ovviamente avete visto l'operazione dojo che è stata chiusa in trailing grazie proprio al mashup del money management che vi parlo in quel video comunque ne parliamo un'altra volta ho pubblicato sul canale telegram questa uscita è uscita stanotte ma era rimasto pochissimo insomma era andato tutto in trailing stop ovviamente come vi avevo spiegato in quel video ma perché no così così ne rifaccio un'altra magari su dojo se dovesse invertire e la facciamo insieme ho deciso questa cosa se la rifaccio la facciamo insieme va bene allora ragazzi qui l'analisi ciclica ci dice che siamo su una struttura di un nuovo annuale che è iniziato il 21 di dicembre ETH BTC questo è il nuovo annuale ragazzi ok? tecnicamente un annuale che potrebbe andare a chiudersi nel 2022 quindi fra un anno e questa è la fase iniziale il precedente annuale è stato anche lui rialzista vedete 1 e 2 ora siamo nel seconda struttura dell'annuale potrebbe assumere questo tipo di diciamo di forma e quindi vedete qui la struttura dello 0.0085 memorizzate questo livello memorizzatelo in testa ok? è molto molto importante ovviamente non è un livello anche lui al dettaglio può oscillare il mercato intorno a questo livello potrebbe fare una cosa del genere ragazzi ok? come ha fatto qui precedentemente fake break e poi ritorna fake break e poi ritorna può fare una cosa del genere ma la zona è quella lì la prossima ragazzi mentre questa 0.070 è una zona corretta di arrivo per ETH in questa settimana quindi potrebbe anche riposare nelle prossime settimane la parte alta invece è proprio una resistenza questa non è una resistenza è un punto medio nel momento in cui invece andiamo ad analizzare questa struttura se la fase ciclica invece può spingere successivamente a livello dell'annuale potrebbe anche tentare il break nella seconda magari parte dell'annuale poi fare una cosa del genere quindi tutto sta in questa zona va bene da un punto di vista di analisi ciclica tra un po' andrà a chiudere metà del ciclo annuale TH e guardate un po' tecnicamente dovrebbe farlo intorno ad agosto periodo in cui Bitcoin dovrebbe riprendere magari un po' l'infa e salire a toccare i miei famosi 67k livello che avevo indicato un annetto fa ragazzi come livello possibile entro agosto 2021 altro che 2 milioni di dollari 3 milioni di dollari ok vabbè allora questo è possibile perché coincidono tutte queste tipologie di analisi andiamo a questo punto a parlare di un'altra cosa e finiamo il video allora è corretto a questo punto di sera a pensare di sguicciare addirittura i nostri Bitcoin su ETH e quindi portare in una fase di equilibrio ragazzi allora il concetto di mettere TH in hold io l'ho iniziato più di un annetto fa ovviamente ne ho una parte che non è paragonabile a quella di Bitcoin pro e contro di questa cosa ovviamente avrei fatto meglio a metterli tutti ma non si fanno così gli investimenti perché nessuno sa il futuro quindi quello che si fa è seguire delle idee delle pianificazioni e dei trading plan ragazzi quindi era corretto mettere TH lo scorso anno nel portafoglio proprio perché ETH stava facendo un trend realista contro BTC e per la questione DeFi quindi la questione DeFi inevitabilmente ci portava ad avere TH in portafoglio poi io stesso non potevo immaginare una forza del genere però per una serie di motivi avere TH in portafoglio era importantissimo altrimenti non era proprio possibile utilizzare questa attività come per esempio la DeFi ora la questione però è andare a miscelare BTC addirittura a sguicciare BTC con ETH è giusto o no? allora ragazzi da un punto di vista di prospettive future di questo mercato ETH è più veloce di BTC nei cambiamenti l'ETH 2.0 che sta arrivando potrebbe dare un boost ulteriore a questo mercato ragazzi e la questione legata all'adoption purtroppo si fa sentire la lentezza di Bitcoin in questo non aiuta quindi è vero che Bitcoin potrebbe soffrire però ricordatevi sempre che Bitcoin è e resta il re attualmente non ci sono dati che indichino un sorpasso di Ethereum contro Bitcoin da un punto di vista di market cap certo Bitcoin ragazzi 44 ETH 18 barra 19 fa paura e sono cose che soltanto un anno fa sfido chiunque a dire una cosa del genere ma i dati negli ultimi mesi stavano indicando questo e lo abbiamo fatto ragazzi abbiamo visto e analizzato proprio perché analizzando i grafici e i dati difficilmente si resta dietro perché i dati sono indicazioni e quando guardiamo i grafici non possiamo non vedere quello che sta succedendo sono di natura oggettivi questa fase potrà continuare dal punto di vista di adoption ETH 2.0 DeFi, NFT e tutto quello che è l'ecosistema ormai chiamiamolo così di Ethereum ragazzi non ha neanche iniziato cioè ha iniziato a dire cosa può fare ma con ETH 2.0 le cose secondo me cambieranno in maniera radicale l'unico problema potrebbe essere se non funziona oppure se subisce la concorrenza di progetti che ci arriviamo tra poco al famoso caso ADA allora nel momento in cui poi andiamo a fare anche l'analisi dei grafici quindi oggettivi anche quelli indicano questa cosa e quindi l'idea di iniziare a ragionare di tenere Ethereum e BTC come due componenti fondamentali dei propri portafogli è corretta ragazzi è una cosa che sto iniziando a dire in Academy a tutti i miei utenti premium che mi chiedono consigli per esempio su come gestire i loro portafogli mi scrivono mentre non ci iscriviamo quella è una community premium ragazzi ok allora a tutti io sto iniziando a dire partite dal cuore, dal core del vostro portafoglio metteteci dentro BTC e TH quelli sono quello del cuore e poi anche BNB ok che ci sta benino Doge no ragazzi ok Doge speculazione sì però non me la sai di fare holding su Doge no allora nel momento in cui andiamo a fare questo tipo di ragionamento allora è giusto pensare ad ETH come una componente fondamentale del portafoglio perché la struttura fondamentale e le innovazioni ci portano in quella direzione e anche i grafici in questo momento ci portano in quella direzione però abbiamo da un punto di vista grafico anche raggiunto dei livelli molto importanti quindi potrebbe anche essere che contro Bitcoin nei prossimi mesi ETH abbia finito la sua fase rialzista ve l'ho fatto vedere quindi soltanto un break di 0.085 darebbe poi il via alla FOMO ma da qui a qui ragazzi io un pochettino aspetterei perché il mercato potrebbe riposare in maniera corretta e stare qui all'interno avevamo indicato 4200 circa come livello target contro USD basta semplicemente un'accelerazione di Bitcoin nella prossima settimana magari o dopo diciamo questa fase di maggio che anche lì sta stentando e probabilmente ETH raggiungerà quel livello i 10k giusti su ETH soltanto un mese e mezzo fa quando l'ho scritto l'ho detto in un video mi avete detto che ero pazzo e che la market cap era così eccetera dopo un mese siamo a 5k ragazzi il concetto è 10k sì solo se tutto il mercato crypto fa un balzo avanti Bitcoin compreso questo io ve lo sto dicendo già da mesi e poi eravamo a 2004 quando vi ho detto questa cosa abbiamo raddoppiato vabbè ok il primo raddoppio l'abbiamo fatto manca l'altro X che secondo me può essere fattibile solo esclusivamente con un aumento generale dell'intero mercato crypto perché adesso ETH comincia a pesare in termini di market cap tantissimo e pensare che da qui possa raddoppiare significherebbe praticamente pareggiare Bitcoin come market cap è possibile sì tutto è possibile ragazzi però non insomma facciamo poi i castelli in aria allora questo è quello che volevo dire vi faccio anche vedere l'ultimo l'ultima chicca che è questa ragazzi allora nell'ultima settimana soltanto 4 coin della struttura degli smart contract ha vinto contro ETH di cui uno è proprio ETH quello è classic gli altri sono IOS Kutumbo e Ontology allora gli altri hanno perso tutti ADA compresa che da un mese ha perso il 30% 25% contro ETH e non è riuscito a recuperare neanche nella scorsa settimana allora il mio train system nuovo che andrò a creare in Academy prende spunto da questa lista ragazzi quindi tutti i competitors di ETH e li metterò a confronto ovviamente quando ci saranno news rilevanti di un sistema che magari di un investimento diciamo magari di un nuovo ingresso da ETH ad ADA per esempio o ad altri ad altre coin magari lo scrivo o ci faccio un video comunque magari lo dico anche su Telegram ragazzi però mi piaceva l'idea di mettere ETH a confronto con i suoi competitors e vedere cosa ne fa un sistema quantitativo statistico un trading system non io che penso queste cose ma un trading system cosa fa perché può essere anche una bella indicazione per cercare di capire se ETH inizia a perdere un po' di brillantezza e quello lo vediamo perché il trading system ovviamente è freddo proprio senza emozioni entrerà contro ETH e ci inizierà a comprare magari ADA NIO IOS o quant'altro va bene ragazzi allora avete ancora voi ETH il portafoglio secondo voi target di ETH quant'arriva ETH ragazzi siamo arrivati perché poi un po' in dubbio me l'avete fatto io con una domanda che voglio affrontare nel prossimo video 2017-2018 sembra una fotocopia BTC si ferma altcoin esplodono abbiamo finito stiamo andando verso un crash è un mercato orzo e non ce ne stiamo accorgendo siamo come quelli su Titanic che stanno ancora su un mondivio lì lo vedremo nel prossimo video e nei prossimi video ciao a tutti